Un certo imbarazzo c'è verificato a Italia Si, il programma condotto da Marco Liorni, dove un uomo, un ospite, ha parlato di sesso e Marco lo ha bloccato, se era in fascia protetta, gli avrebbe detto. Come ogni sabato che si rispetti, Marco Liorni gli ospiti fissi, Santarelli, da Chiesa, Bertoltuzzo e Corussi, in arte platinette, hanno fatto compagna al pubblico di Raiuno, ieri, 18 aprile 2020. Si parlava ovviamente di coronavirus, Platinette parla del sesso coniugale, in quarantena avrebbe chiesto, ma come si può tenere la distanza di un metro? Liorni però avrebbe bloccato proprio sul nascere le parole di Platinette, gli avrebbe detto, siamo in fascia protetta, è un po' difficile dare risposta a questa domanda. In ogni caso, Mauro Corruzzi, in arte platinette, con il suo intervento, è riuscito a, diciamo così, regalare un po' di sorrisi ai telespettatori di casa. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, un saluto caro, e al prossimo video da Leandro, narratore italiano. Iscrivetevi, commentate, un saluto caro, e al prossimo video da Leandro, narratore italiano.